La mia esperienza in Argo Tractors in 2003. Dopo un anno in una piccola compagnia di automazione industriale, ho avuto l'opportunità di inserire questa prestigiosa compagnia nel Valle del Motor. Il Tractor consiste in un sistema mechatronico complesso e le elettroniche siano una grande regola nella connessione con i sistemi di equipamento e i digitali smart. Qui, un po' esempio. Nel Tractor ci sono più di 10 controlli elettronici, che gestiscono elementi meccanici e idraulici. Un altro aspetto significativo è poi rappresentato da HMI, per esempio i manuali di gestione di land, che aiutano all'operatore di interagire in un modo semplice con il sistema complesso della stazione lavorativa. Tractor più implemente. Le nuove innovazioni e problemi lanciate dal mercato rispetto a ridurre l'impacto ambientale nell'agricoltura, aumentano la produttività e ridurre l'operazione di trattore e il costo di mantenere. Il risultato è risultato da Argo Tractor con il lancio di molti progetti, dal studio di sistemi inovativi, hybrid e elettronico per l'implementazione di sistemi 4.0 industriali, che aiutano il veicolo a essere monitorato remontamente. Argo Tractor's spirito dell'innovazione ha anche stato riconosciuto nelle ultime due edizioni di HMI, uno dei più importanti in nostra industria, grazie all'attività del Tecnico Innovation Award. Allora, lo sappiamo, che il Tractor è il giro del favore. Abbiamo un po' sbagliato, ma è anche divertente toccare quello che viene da un design e diventare un veicolo di lavorazione che è usato in lavoro quotidiano nel campo.